per giocare la Serbia, ottavo posto Adesso su Sbetsch, difficili queste gare, non tanto perché si rischia di perdere ma quanto perché la concentra, bella figura L'unica cosa a cui servono queste gare è fare un po' di minutaggio in rotazione quindi anche il roster a 15 consente a Carlo o quello che serve è chiaro che si ritrovano ad affrontare una partita con la Spagna in un quarto di finale quindi entrambe due le squadre prima dell'Europeo erano date come squadre appunto da vertice e qui si giocheranno il dentro fuori insomma ma anche una spinta in termini di fiducia, in termini di consapevolezza, in termini di autostima sono tutti elementi che servono a questo gruppo, a queste ragazze che hanno lavorato tanto lo abbiamo detto a più riprese e ora compagni di squadra in queste ultime due stagioni proprio all'equipe Orizzonte Catania per il gruppo B di gioco anche se è chiaro in partita del genere per entrambe, per tutte le 13 giocatrici è importante per quello che